Ciao a tutti ragazzi bentornati nel mio canale oggi andiamo ad affrontare un argomento che abbiamo visto in passato ma non approfondito e di cui tantissimi mi avete chiesto di approfondire nell'arco del tempo sto parlando di Etsy e su come fare il dropshipping su Etsy partendo praticamente da zero andiamo oggi a vedere cosa vi serve per iniziare i costi su come strutturare e su cosa fare attenzione come vedete siamo infatti messi in versione desktop e per chi mi conosce sa che in versione desktop andiamo a vedere cose un po' più tecniche mi scusate per l'audio, scusatemi per l'audio credo si dovrebbe sentire bene essendo in viaggio non ho portato il microfono sto usando quello del Mac incorporato tra l'altro di recente ho comprato i nuovi Mac dicono che il microfono è potenziato quindi penso dovreste sentirmi abbastanza bene ma lasciamo un attimo stare l'off topic andiamo subito nell'argomento innanzitutto che cos'è Etsy? Etsy ragazzi per chi non lo sapesse è uno dei marketplace più grandi al mondo che è specializzato in articoli handmade quindi articoli artigianali quindi personalizzati, fatti a mano quadri, dipindi e roba varia Etsy ragazzi è uno store che ha tantissime potenzialità e che è sottovalutato ancora nel mondo del dropshipping non si sa ben perché forse perché non ci sono molti strumenti al di fuori di quelli che vi andrò a spiegare oggi che vi permettono di entrare nel mercato eppure ha molte molte potenzialità e ha molti vantaggi andiamo a vedere ragazzi qualcuno di questi vantaggi il primo è che ha 96 milioni di acquirenti il sito Etsy.com ed è un numero ragazzi molto molto alto attore che lo posiziona al numero alla posizione 4 dei marketplace più grossi al mondo per farvi capire ebay che è al secondo posto ha 276 milioni di acquirenti al primo posto c'è Amazon ovviamente quindi stiamo parlando di tanta tanta roba tanto traffico gratuito secondo punto ragazzi è che non c'è nessun limite di vendita quindi voi sapete che su ebay ci sono dei limiti di vendita se mi seguite sapete che sono specializzato nel dropshipping su ebay a differenza di ebay qua non ci sono limiti di vendita quindi vuol dire che potete mettere tutti gli oggetti che volete ovviamente seguendo una progressività ok? seguendo un mercato logico perché se no potete rischiare di avere l'account sospeso sapete bene che la doppia faccia dei marketplace è che non si è in controllo dell'asset quindi si deve si deve andare a rispettare diverse linee guida di cui ne ho parlato tantissimo nel mio canale ma anche nei miei corsi terza cosa è che è un mercato aperto cosa intendo con un mercato aperto? essendo che è un sito specializzato in prodotti fatti a mano in prodotti personalizzati abbiamo una vasta scelta di cosa pubblicare e di cosa non pubblicare tra l'altro possiamo andarci a specializzare in cose in cui non c'è molta competizione quindi ci dà tantissima tantissima manovra di scelta un'altra cosa è che è possibile automatizzarlo ok? quindi come ebay come gli altri marketplace che spiego possiamo andare ad automatizzare exe per facilitare il lavoro quindi le versioni degli ordini customer service tracking numbers quindi detto questo ragazzi andiamo un attimo nel vivo come fare dropshipping su Etsy e soprattutto i costi e su come organizzarlo la prima cosa da sapere è che ci sono due modi di fare dropshipping su Etsy il primo è manualmente quindi andare a pubblicare l'oggetto trovare il fornitore e importare l'oggetto il secondo è andare ad utilizzare delle automazioni io vi consiglio AutoDS che supporta benissimo Etsy come canale di vendita quindi AutoDS è un software che vi permette di importare i prodotti monitorare i prezzi e evadere gli ordini in totale autonomia perché non lo sapesse io gestisco anche parte in dibattimento dentro AutoDS quindi lavoro anche all'interno di AutoDS abbiamo parlato molto nel canale e tantissime tantissime persone utilizzano già questo software per automatizzare dropshipping su marketplace ma anche su Shopify quindi potete utilizzare AutoDS e integrare AutoDS una volta che avete integrato AutoDS avrete la possibilità di importare prodotti da 24 differenti supplier fornitori quindi detto questo andiamo un attimo nel vivo di quali prodotti importare e poi andiamo a vedere i costi ci sono delle differenze su Etsy rispetto a eBay o Amazon che dobbiamo tenere in considerazione perché dobbiamo essere in linea con le politiche e le marketplace per evitare sospensioni quindi la cosa più importante da sapere è pubblicare solo prodotti fatti a mano significa che non potete a differenza di eBay o Amazon non potete pubblicare a spiapobili computer telefoni figuriferi e cose del genere o meglio potete però non sono visti di buon occhio potreste ricevere una restrizione per aver pubblicato oggetti che non sono in linea con la specializzazione del marketplace in ogni caso questo è un problema quali sono alcune quindi ora voi vi starete chiedendo ma questi prodotti a mano come faccio a farli prodotti fatti a mano non significa fatti da voi significa dovete mettere prodotti che non siano fabbricati o che non sembrano fabbricati a livello industriale quindi a livello di serie in serie quindi non significa dovete farli voi ma semplicemente di evitare prodotti fatti in serie abbiamo diverse opzioni per esempio print on demand quindi importare magliette bicchieri tazze adesivi cose che si possono personalizzare stampare e inviare oppure oggettistica 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 scusate analfabetica analfabeta qui stavamo dicendo oggettistica ok si ragazzi voglio sapere l'absus in cui divento analfabeta non riesco più a parlare a scrivere correttamente dicono che sia un segno di genio alcuni altri dicono che sia segno di pazzia fatto sta che a volte mi vengono queste crisi dialettiche quindi pubblicare quindi possiamo andare a scegliere prodotti print on demand oggettistica ora andiamo a vedere come nello specifico per le cose stampate ci sono tantissimi software tra l'altro anche l'ODS ha di recente inserito questa possibilità di inserire cose da stampare magliette tazze e importarle oppure l'oggettistica come sapete a me piace molto e sono un grande sostenitore dell'abitraggio della marketplace quindi fare dropshipping per esempio utilizzando Amazon che è un evidentissimo fornitore che ci permette di importare migliaia e migliaia di articoli ovviamente dobbiamo qui andare a vedere come pubblicare solo prodotti fatti a mano mettiamo il caso quindi che io voglio usare Amazon come fornitore Etsy come fornitore di venti e importare prodotti da Amazon Etsy cosa dovrò fare andrò su Amazon mettiamo un caso che voglio utilizzare Amazon.com va bene questo punto andrò sulle categorie e andrò a cercare la categoria categoria eccola qua handmade quando io vado a importare prodotti di questa categoria io sono sicuro di essere in linea con le politiche Etsy perché qua non troverò mai prodotti fatti in serie o comunque non ci dovrebbero essere quindi sono tutti prodotti personalizzabili che sono in linea con con le politiche Etsy a questo punto io posso andare a estrarre tutti i prodotti che voglio io solitamente quello che spiego nell'interno dei miei corsi e quello che ho spiegato nel mio canale è la modalità di grandi numeri quindi andare a importare centinaia o migliaia di annunci e andare a lavorare sulla quantità rispetto alla selezione visto proprio che c'è che c'è la possibilità di farlo con i marketplace e ora andiamo a vedere ragazzi anche qualche numero sia di costi che di eventuale profitto che si potrebbero fare quindi vado a scegliere comunque i prodotti che io voglio importare tramite la categoria di fatta a mano probabilmente posso andare più nello specifico andare nei gioielli andare sui prodotti da cucina e quant'altro o posso semplicemente estrarre i prodotti da qua o manualmente utilizzando software che ho già mostrato non vado ad approfondire ho già mostrato questi software nel mio canale in passato sono ben spiegati all'interno di tutti i miei corsi quindi non vado ad approfondire però probabilmente vado ad utilizzare software come questo mi vanno a estrarre centinaia di oggetti in un lasso di tempo abbastanza breve tipo ho già uscito 144 oggetti da questa categoria e li vado poi a importare tramite software tipo AutoDS su Etsy a quel punto avrò AutoDS che mi monitora i prezzi Etsy che vende quando un ordine entra su Etsy me lo ritrovo su AutoDS e o lo spedisco io manualmente oppure automatizzo il processo e andrò ad automatizzare anche la spedizione e l'ordine quindi nel caso di Amazon tu Etsy quindi da Amazon a Etsy avrò automatizzato l'ordine fatto su Amazon utilizzando il mio account oppure utilizzando gli account di AutoDS e tutto il processo sarà praticamente automatico ovviamente per cercare su una service con altri ma quali sono i costi allora Etsy è gratuito fondamentalmente quindi ti scrivi e non hai nessun costo quindi iniziare a pubblicare i prodotti quello che bisogna sapere che c'è un costo dell'8% di commissione sulla vendita molto basso se consideriamo di ebay è sul 14-13% e poi abbiamo 20 centesimi ad annuncio che si rinnovano ogni 4 mesi che significa significa che se metto 100 annunci oggi questi 100 annunci mi costeranno 20 euro 20 euro sì sì 20 euro e saranno live per 4 mesi dopo 4 mesi o li tolgo oppure si rinnovano ad altri 20 euro quindi vago 20 euro per avere 100 annunci online quindi se noi andiamo a fare ragazzi un attimo qua uno schermino mettiamo che voglio mettere 1000 prodotti prodotti costo mettendo 1000 prodotti avrò un costo ok ok 200 euro che mi varanno 4 mesi quindi ho 4 mesi di tempo per recuperare questi 200 euro dalle vendita questo è totalmente fattibile possiamo addirittura andare a mettere nelle nostre commissioni di autoDS che quando noi andiamo a importare ragazzi con autoDS possiamo impostare sia i costi fissi tipo i 20 centesimi sia i costi variabili tipo l'8% di commissione quindi andiamo a inserire 1000 prodotti per 200 euro un prezzo abbastanza onesto se ne andiamo a inserire 10.000 ci costerà 2000 euro va bene ora quali sono le proiezioni a cui possiamo a cui possiamo pensare quando andiamo a inserire i prodotti suezzi ragazzi ovviamente è difficile dare numeri precisi numeri unici perché tutto dipende dai prodotti che andiamo ad inserire dalla stagione ok se siamo nel primo quarto nel secondo nel terzo nel quarto quindi da tante varianti dipende dal vostro account da quanti feedback avete dal posizionamento dei bidarezi dipende da se fate sponsorizzate se non fate sponsorizzate ci sono tante variabili che influiscono sul sul costo sul sul profitto conosco persone che hanno un paio di oggetti solo 10 20 oggetti e fanno comunque un po' di profitto al mese e poi ci sono persone che hanno mille oggetti e fanno molto più profitto quindi dipende ragazzi dipende tutto da diverse varianti quello che vi posso dire in base alla mia esperienza ai miei negozi che ogni mille oggetti si va a parlare su circa con un margine del 20% quindi andiamo a inserire noi impostazioni dell'8% più di 20 centesimi più un ulteriore 20% di margine che sarà il nostro profitto andiamo sui parliamo in America ok perché io vendo principalmente in America andiamo sui 40 dollari al giorno di profitto questo significa che mille prodotti mi generano 1200 dollari a mese di margine di profitto a cui dovranno andare a togliere le spese dei software come auto di essere dovranno andare a togliere qualcosa di non so di arrotondamento per i resi soldi persi solitamente si sta sull'1% del lord sulle controverse e si perdono e quant'altro e andrò a togliere il costo degli oggetti quindi se io lavoro con mille dollari al mese con mille oggetti con mille oggetti alla volta che mi costano 200 dollari ogni 4 mesi significa che io faccio 50 dollari quindi se io mille oggetti mi portano 40 dollari al giorno e sono 1200 dollari al mese sui 1200 andrò a togliere 50 dollari andrò a togliere il costo della 3DS che dipende dal vostro piano mettiamo 150 dollari e mi resteranno mille dollari netti a cui dovrò togliere eventuali ulteriori spese tasse e quant'altro se se le ho questo significa che se facciamo lo stesso gioco con 10.000 prodotti aumentiamo uno zero dovrebbero rimanere invece di mille dollari 10.000 dollari in realtà si va un po' a scena più prodotti avete più si va a scendere perché più prodotti si hanno più aumentano le spese più margine scende però possiamo scalare più velocemente per me in ogni caso ragazzi se state cominciando adesso vi sconsiglio di inserire troppi prodotti se non sapete cosa state facendo vi sconsiglio di scalare troppo velocemente dovete fare sempre un processo graduale e soprattutto dovete formarvi studiare ma dovete anche capire come funzionano i vari marketplace ok non andate non inseritevi su Etsy inserite mille prodotti che poi non sapete gestire inseritene uno o due guardate attorno guardate come funziona formatevi guardate le guide capite la piattaforma perché mi è capitato molte volte di conoscere persone soprattutto in ambito ebay che iniziano a scalare un negozio senza che sappiano gestire la parte ebay senza che sappiano gestire la piattaforma questo ragazzi è molto molto pericoloso perché rischiate di bruciarvi i negozi e bruciarvi i vostri asset senza che voi sappiate effettivamente gestirli ragazzi ci sarebbe tantissimo altro da dire magari facciamo altri video su Etsy e andiamo a vedere la parte più tecnica dentro l'autodS se vi interessa fatemi sapere nei commenti stivetevi al canale e grazie di seguirmi ciao alla prossima ciao